... Mister Pergolizzi, questa prima giornata di questo triangolare Paule Scudetto si riparte un po' da dove eravamo rimasti. Una vittoria convincente, la sensazione è che la squadra comunque abbia tenuto il campo alla grande un po' per tutti i 90 minuti. No, diciamo che la squadra ha onorato questo impegno che per noi è un impegno da rispettare. Poi qualsiasi sia il risultato noi l'avremmo accettato ma non deve mancare l'impegno e il fatto di guardare sempre a ogni prestazione con positività. Perché noi crediamo nel lavoro che abbiamo fatto, bisogna continuare a lavorare così e poi ecco il risultato è una cosa a parte. Ma la continuità e la mentalità sono delle cose positive che uno si deve portare avanti per il tempo. Ha cambiato qualcosina Mister, ha dato più spazio anche a chi ha giocato meno, anche questi ragazzi hanno risposto presente. Una squadra pronta, completa a 360 gradi. Purtroppo credo che tutti meritassero di poter giocare forse con più continuità, avere più spazio. Però purtroppo ecco devi fare una formazione, poi il fatto degli under e devi fare dei giovani con i grandi. Quindi non è facile mai fare dei cambi. Sto cercando di far giocare a tutti, chi un quarto d'ora, chi 20 minuti, chi un tempo, chi tutta la partita. Ma credo che i ragazzi non abbiano nessun motivo per non essere contenti perché l'hanno dimostrato tutto l'anno, facendosi trovare sia pronti ma disponibili anche ad accettare una panchina. O chi è andato in tribuna l'ha sempre fatto nella maniera giusta. Io dico sempre che siamo tutti titolari anche di un minuto di quello che ci richiede l'allenatore. Alessio Rasi, 1-0 questa prima gara della Paule Scudetto. 90 minuti pieni, grande prestazione. La tua come quella di tutti i tuoi compagni? Sì, sono molto contento soprattutto di aver trovato il gol. Penso che la Paule Scudetto sia un modo di coronare una grande stagione. Per essere la prima partita abbiamo fatto la cosa giusta. Il mister quest'oggi ha cambiato qualcosina anche dal primo minuto, ma la sensazione è che questa squadra ha praticamente 11 titolari in campo e fuori. Sì, l'abbiamo sempre detto, siamo 22-25 titolari. Siamo una grande squadra e oggi l'abbiamo dimostrato. Il mister ha fatto delle scelte diverse rispetto al solito e noi abbiamo cercato di ripagare, soprattutto magari chi ha trovato meno spazio, cercando una prestazione in maniera ottimale. Giusto anche l'atteggiamento in campo? Giusto, corretto, non siamo quasi mai stati in difficoltà. Abbiamo gestito bene questa gara per tutti i 90 minuti alla fine? No, la partita è stata gestita nella maniera giusta. Gli ultimi minuti ci siamo un po' abbassati, solo 1-0 ci può stare, però è stata una partita affrontata con la testa, preparata bene in settimana, con spensieratezza, come giusto che sia. Però abbiamo portato a casa un grande risultato, soprattutto fuori casa. No, la partita è stata una crociante base.